Vaca André va dentro a cercare un altro cross, pallone per Defrae, c'è la torre per Messino, l'ha presa, l'ha ripresa Messino, l'ha ripresa Messino, è 2-1 per l'Inter, è 2-1 per l'Inter, non è possibile, è l'uomo della Champions, è l'uomo della Champions, oddios Messino, 2-1 per l'Inter. L'ultima parola di Uruguagi, sempre loro, sempre loro, l'ultima parola nel calcio, è la loro, hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia, che lascia il segno nella storia dell'Inter, questa è la storia che si ripete. È il 22 maggio, o è il 18 settembre, ma l'ha presa Messino, che Nicola Berti, la riprende, la riprende Messino sulla torre di Defrae, sta succedendo il panicomio più totale a San Siro.